Benvenuti su Strategetti, oggi siamo in compagnia di Federico Tomasetti da Torino. Ciao Federico! Ciao Riccardo e ciao a tutti! Federico, come chiedo a chiunque è ospite in questo podcast di dirci di cosa si occupa e poi io sfodererò la mia curiosità e ti chiederò un sacco di cose. Ma dunque, diciamo il mio lavoro principale riguarda il language engineering, quindi creare linguaggi e strumenti di supporto per migliorare il modo in cui lavora la gente. Poi il mio lavoro secondario è invece più legato all'intelligenza artificiale. E qui già è aperto il fatto che dal 2018 credo tu hai aperto la prima società? Sì, allora la prima società, quella del language engineering, è un po' la continuazione della mia attività da libero professionista che all'epoca svolgevo in Francia, poi quando mi sono trasferito in Italia ho aperto un SRL. Quindi tendevo la tua vita da imprenditore anche iniziata nel 2018 più o meno, no? Beh sì, anche se prima appunto un po' come freelance, un po' il filone era quello, cambiano le forme. Esatto, esatto. Però sì, quindi era da qualche anno in più, adesso forse è 2016. Quello che mi ha colpito subito di Strumenta, che il nome l'hai svelato altre volte, che è legato al fatto che create strumenti, tool e quant'altro, perché il payoff è Better Tools for Better Work. La prima domanda che mi sono posto io, dato che quando sei a via un'azienda, è di piccole dimensioni l'azienda, comunque diversificare o occuparsi di più target è complesso, mi sono chiesto ma vogliono rendere i sviluppatori più produttivi, quello è il target, oppure i non sviluppatori ad essere più autonomi? Se mi sveli questo arcano. Ecco, già il concetto della diversificazione o essere generalisti meriterebbe anche quello una bella riflessione. Però sì, ecco, noi su questo forse siamo troppo generalisti perché teniamo un po' il piede in due scarpe. Senso che lavoriamo sia su linguaggio e strumenti per migliorare il lavoro degli sviluppatori, sia quello dei non sviluppatori. Per esempio, per migliorare il modo di lavorare degli sviluppatori, un esempio di progetto che è anche open source e che abbiamo fatto con l'unico cliente italiano che abbiamo avuto finora, quindi ci tediamo a contarlo particolarmente, è stato un interprete per l'RPG. Quindi questo linguaggio posizionale che gira originariamente solo su macchine IBM, abbiamo fatto un interprete che gira sulla Java Virtual Machine. Quindi quello è uno strumento rivolto a sviluppatori per semplificare la loro vita e dire, ah cavolo, posso adesso lavorare sulla Java Virtual Machine e posso fare anche delle estensioni in Java o in Kotlin. Quindi tirarmi dentro quelle librerie e quindi avere una vita più semplice. Mentre altri tipi di soluzioni le facciamo per i non sviluppatori, proprio domain specific languages che sono rivolti a chi sviluppatore non è, non lo vuole diventare, ma ha in qualche modo bisogno di definire la sua conoscenza, di formalizzarla perché venga eseguita in qualche forma. Esempio applicazioni medicali e quindi un esperto di medicina che definisce una terapia con un domain specific language disegnato opposta e questa terapia poi viene, diciamo, eseguita da un'applicazione. Adesso ovviamente in un podcast che è indirizzato, si spera, anche a persone di business, noi tireremo fuori, scenderemo negli inferi come si suol dire, tireremo fuori acronimi e tecnologia, però in soldoni tu vai a, diciamo così, a costruire dei linguaggi che sono semplificati per un pubblico anche di non sviluppatori e che gli permette su un ambito molto specifico di poter essere operativi e non avere sempre il bisogno dell'ausilio di uno sviluppatore. Questo DSL, scusa se aggiungo una cosa, si lega molto al mondo della generazione dei codici. Pochi giorni fa, l'anno scorso, vedevo un video su YouTube di Andrea Saltarello, che forse conosci perché ha un'azienda a Milano di software, e che diceva che la generazione di codice è una cosa degli anni 60 e più volte si è tentato di fare generazione di codice e lui raccontava un po' che, in soldoni, semplificando molto, che la generazione di codice è difficile ottenerla come la pensiamo noi, cioè in sostituzione dello sviluppatore, ma ovviamente come fai tu è un modo per, qui sto parlando più dei parser, poi ci arriviamo, è un modo per, ci sono tanti esempi nel mondo della generazione del codice, come il traspiratore, gli interpreti, quello che hai appena detto tu dell'interprete è quello di poter fare in modo che se abbiamo un'azienda con del software che crea valore, ma diciamo così risente dell'obsolescenza del tempo e vuole essere esteso, può anche essere interoperabile con altri linguaggi, giusto? Sì, è un discorso un po' ampio. Ma diciamo la generazione di codice può avere tanti scopi, nel senso un conto è dire faccio una definizione di alto livello, genero del codice e poi magari lo do in mano ai miei sviluppatori per estendere o modificarlo, eccetera, quello è un approccio, non è molto legato a quello che facciamo noi. Noi creiamo linguaggi di alto livello, poi in qualche modo bisogna eseguirli questi linguaggi di alto livello. Spesso usiamo degli interpreti, cioè dei programmi che leggono al volo la definizione di alto livello e fanno qualcosa, oppure puoi usare anche, sì, della generazione di codice, che vuol dire sostanzialmente, io magari ho scritto un linguaggio di alto livello, chiamiamolo Pippo, non esiste il compilatore di Pippo, allora leggo Pippo, genero Java e poi compilo Java. Ma in quel caso, dal nostro punto di vista, la generazione di codice è solo rivolta a creare qualcosa di effimero che è un po', diciamo, una scorciatoria rispetto a scrivere un compilatore, con i suoi pro e contro tra scrivere un compilatore o passare dalla generazione di codice, ecco. Aver fatto quell'interprete permette a quel tipo di software di mantenere una certa longevità. Questo è un aspetto, un aspetto, e perché ad esempio nel mondo anche retrocompatibilità, ad esempio, oppure di non abbandonare, se vuoi, se fai un traspilatore, proprio di abbandonare quella tecnologia, oppure nel mondo, ad esempio, del web, dello sviluppo, abbiamo sistemi come Bubble, che tu scrivi in un codice che ti senti più confidente ad utilizzare, poi per la compatibilità con gli strumenti che abbiamo a disposizione c'è la traspilazione, quindi non è detto che si abbandoni. No, ma ora, su questo discorso della longevità, ho un esempio che per me è abbastanza esemplificativo, che è questo di un'azienda proprio di Torino, qui avevo collaborato mentre facevo il dottorato qua. Quest'azienda aveva un suo DSL dall'epoca erano 20 anni, adesso sono quasi 30, quindi hanno definito con questo DSL della logica legata al calcolo delle tasse, sostanzialmente. Ora, siccome l'hanno definita in questo DSL, inizialmente avevano un generatore di codice che dal DSL gli generava l'applicazione, e che applicazione era, parliamo di anni 80, anni 90, generavano un'applicazione da linea di comando, quindi che tu potevi usare con la tua bella console 80x25. Dopodiché negli anni hanno aggiunto un secondo generatore, per cui dallo stesso codice hanno iniziato a generare, che cosa? Un'applicazione desktop. Perché? Perché l'intenzione era di alto livello, e quindi, diciamo, il dettaglio tecnico di come mostrare con l'intenzione di alto livello era catturato nel generatore e quindi cambiavi il generatore, ti portavi dietro tutto il tuo codice ed eri in qualche modo protetto dall'obsolescenza. Poi negli ultimi anni che cosa hanno fatto? Hanno cambiato il generatore e hanno iniziato a generare applicazioni web. Però quello è un esempio in cui, utilizzando un DSL, hanno resistito meglio ai cambiamenti tecnologici. Se l'avessero scritto del codice direttamente in C, per esempio, a un certo punto avrebbero dovuto prenderlo, buttarlo via, rifare l'applicazione, perché era cambiato il paradigma tecnologico e se tu non hai isolato bene, diciamo, la business logic dagli aspetti tecnologici, non riesci più a fare un'evoluzione del genere. Con un DSL invece sì, e quindi questo tema della longevità lì era particolarmente evidente. Tu hai fatto molte volte esempi in cui, se vai a dichiarare un DSL, poi c'è da fare un editor, c'è da simularlo, c'è da capire se validare quello che viene generato. Se si spiega un po' il percorso, se qualcuno ha bisogno di DSL, che percorso deve fare? Permesso anche lì, poi ci sono tanti... a volte con DSL si intendono cose diverse, io invece mi concentro, diciamo, su linguaggi fatti per non sviluppatori. Quindi a questi non sviluppatori penso sia particolarmente utile dargli degli ambienti che li guidino. Li guidino sia nell'imparare a utilizzare il linguaggio, sia nel dargli del feedback su quello che stanno facendo. Quindi se io ho creato un DSL, diciamo, per rappresentare applicazioni mediche, il mio medico o chi per esso vuole descrivere, per esempio, che nel caso il paziente abbia una temperatura superiore a 40 gradi, qualcosa deve essere fatto. Nel momento in cui si sbaglia e scrive 4 gradi o 400 gradi, il sistema deve avere l'intelligenza di capire che quello che sta dicendo è sbagliato e dargli un errore che sia significativo, che gli permetta di capire dove ha sbagliato e andare a correggere, no? E essendo linguaggi specifici si ha di solito più informazione. Io in questo caso posso prevedere un linguaggio di alto livello che sa che in un certo punto io specifico una temperatura e so che quindi la temperatura umana deve stare, adesso non so, tra 32 e 42 gradi, tra 36 e 42 gradi e non ha senso dare un valore diverso. Posso fare tutte delle verifiche che in un linguaggio invece generico non posso fare in un linguaggio come Java. Quando parlo di numeri non so in che ambito li sto usando. Quindi non so dire se quel 40 ha senso, se ci andrebbe un 4, un 400. Mentre in caso di linguaggio specifico più informazioni posso catturare più errori e quindi posso guidare di più l'utente. E devo sicuramente fargli un editor che lo guidi a capire che cosa può fare e che cosa può specificare. I non sviluppatori tendono ad avere un po' la sindrome del foglio bianco per cui se tu gli dai un editor vuoto non sanno da che parte partire. Se invece tu gli dai un editor più guidato, che gli dà la sensazione che devono riempire gli spazi, allora prendono più familiarità e possono quindi lavorare meglio. Quindi puoi avere appunto degli spazi da riempire, un autocompletamento intelligente che ti guida, degli errori che sono semantici e quindi capiscono il contesto, ti aiutano a correggere quello che stai facendo. E anche un'altra cosa che è importante ed è diversa dai tipici linguaggi utilizzati dagli sviluppatori è il fatto che tu puoi usare delle notazioni che sono familiari a questi esperti e che non sono i modi tipici che noi associamo alla programmazione. Come programmatori noi tendenzialmente partiamo da un foglio vuoto e scriviamo del testo. Nei DSL fatti per non sviluppatori invece puoi permetterti di usare anche notazioni grafiche, ma anche tabelle, alberi decisionali per esempio, e qualsiasi altro tipo di notazione che ti venga in mente. Ovviamente alcune sono più difficili da implementare di altre, però l'idea è proprio quella di sfruttare quei modi di lavorare che l'esperto conosce. Se il mio medico è abituato a disegnarsi delle tabelle decisionali su carta, io cercherò di dargli quello schema, di supportare quello schema nel mio editor, quindi farò un editor che può sembrare un po' innaturale a uno sviluppatore, ma che può invece sembrare molto naturale al mio utilizzatore. E sicuramente c'è un grosso sforzo nel creare questi editor e questi strumenti di supporto. Tu prima parlavi di simulatori che sono un altro elemento importante, perché diciamo l'utilizzatore ha bisogno di avere feedback per capire se è sbagliato, quindi tipico medico che descrive questa terapia, la prima cosa che vuol fare è provarla, e quindi ha la possibilità, nel caso di questo progetto che abbiamo realizzato per un nostro cliente, di definire la terapia, cliccare un bottone, parte un simulatore, può far finta di essere paziente e vedere che cosa succede, e vedere se effettivamente è riuscito a descrivere il comportamento che voleva oppure no. Certo. Mi hai fatto venire quindi un editor con cui è più confidente, smart, chiamiamolo così, perché ormai smart si appiccica a qualsiasi cosa, e linguaggio comunque che è chiaro, non necessariamente a chiunque, ma a quello specifico ambito. Esatto. Ma la cosa che mi stavo chiedendo, perché poi questa attività di consulenza va venduta, quando arrivano le aziende, di cosa principalmente si lamentano, che storico hanno per dire, forse mi servo un linguaggio specifico per il mio ambito. Premesso che tante aziende effettivamente potrebbero beneficiare di DSL, ma non hanno la più palida idea di che cosa siano i DSL, e quindi non cercano questa soluzione. Ma tipicamente i problemi che andiamo a risolvere sono diversi. Il primo è quello della comunicazione. Nell'approccio classico di sviluppo tu hai i tuoi esperti, che possono essere esperti di medicina oppure esperti di tasse, per esempio, o esperti di polizie assicurative, per fare degli esempi, e questi hanno in mente come dovrebbe funzionare il sistema, lo devono descrivere gli sviluppatori. I sviluppatori possono capire più o meno bene quello che gli dicono gli esperti, vanno di là, lo implementano, tornano indietro, ci si rende conto che non ci si è capiti. Per tentare di semplificare le cose magari ci metti in mezzo degli analisti, che gli analisti parlano con gli esperti, scrivono i requisiti, gli danno i requisiti agli sviluppatori e ancora si torna indietro. E ci sono dei problemi di comunicazione. Perché? Perché gli sviluppatori sono esperti di sviluppo e di formalizzazione del pensiero, direi anche, ma non sono esperti magari di medicina, per cui tante cose gliele devi spiegare. Mi è capitato in questo progetto in ambito medicale di sentire i sviluppatori lamentarsi del fatto che vengono fuori dei requisiti e il medico non gli dice perché dal suo punto di vista è ovvio. È ovvio che un certo rapporto tra la pressione sistolica e la sistolica non ha senso e quindi non devi rappresentarlo. Sarà ovvio per te, ma per lo sviluppatore non lo è. E quindi c'è un problema di comunicazione. Dall'altro c'è il problema legato che questi esperti descrivono della logica su carta e a volte fanno degli errori. Perché? Perché è difficile formalizzare dei processi complicati senza avere alcun tipo di feedback. Noi come sviluppatori abbiamo sempre la possibilità di scrivere un programma, lo proviamo, non funziona tipicamente come vogliamo la prima volta, ma nell'eseguire il programma otteniamo del feedback, torniamo indietro e lo correggiamo. Oppure abbiamo delle idee che nel momento in cui proviamo a implementarle ci rendiamo conto che proprio quel codice neanche compila perché c'è mancato qualche passaggio. Però abbiamo tutti questi meccanismi che ci danno feedback e quindi siamo in grado di correggerci. Gli esperti non ce l'hanno. Gli esperti ogni volta che descrivono un'idea su carta e ci danno il foglio, noi programmatori proviamo a implementarlo, ci rendiamo conto di incoerenze che ci sono, pezzi che mancano appena proviamo a implementare quel codice. E tipicamente la nostra reazione è tornare dagli esperti e di che sono dei cratini perché non hanno scritto i requisiti correttamente. Mentre noi come sviluppatori abbiamo un sacco di tool che ci aiutano, loro no. Il DSL cerca un po' di eliminare questa comunicazione, dare degli strumenti agli esperti perché possano provare, sbagliare e correggersi da soli. E quindi il risultato è che elimini i costi di comunicazione, riduci molto i tempi di sviluppo, di molto dipende dai contesti, ma in diversi progetti si parla di tempi di sviluppo ridotti di 5, 10, 20 volte. Riduci di molto gli errori, perché? Perché essendo un linguaggio di alto livello tanti errori non sono semplicemente possibili. Non puoi avere una null pointer exception, perché? Perché non ragioni a quel livello di astrazione. È come avere, se mi consenti, mi fai passare il concetto, come avere dei Lego e costruisci quello che vuoi che esca. Sì, in un certo senso sì. hai dei componenti che puoi combinare in maniere più limitate, quindi certi incastri proprio non riesci a farli, quindi certi tipi di errori sono impensabili. Come è sempre il caso quando alzi il livello di astrazione, mentre avere un buffer overflow è veramente semplice in assemble, un pochino più complicato in C, più difficile in Java, in un DSL non riesci per quanto ti impegni. E quindi la riduzione di errori è un altro vantaggio. Infatti diciamo che è come mettere in mano, invece che un'idea che per noi è un Integrated Development Environment, cioè un ambiente di sviluppo, più anche come, delle volte mi accorgo che come cambiano i nomi, adesso li chiamano studio, che è un po' come dire, è un qualcosa di più evoluto, ad alto livello, che può essere messo in mano a più persone o a un audience specifico, verticale, o comunque dove anche i dev, passiamo i termini che i dev sono aumentati di numero, i sviluppatori, e quindi in qualche maniera adesso abbiamo forse lo sviluppatore o più uberato, che deve fare più cose, o effettivamente pigro, non quello che automatizza, ma è che è un po' meno appassionato della materia e quindi forse vuole la pappa fatta, nel senso uno studio un po' più intelligente che gli nasconde un po' di complessità. Sì, gli nasconde quel tipo di complessità che lui forse sarebbe la persona meno adatta a risolvere. Poi di lavoro per lo sviluppatore ne rimane, perché se noi andiamo a dare la possibilità agli esperti di definire magari la logica di business, esempio, vogliamo fare un sistema per rappresentare le polizze assicurative, diciamo che l'esperto gli mettiamo in mano un DSL per calcolare il premio, ok? Però poi magari tu devi, non so, generare un PDF, mandare un'email, salvare dei dati in maniera sicura. Quelli sono tutti i compiti che rimangono lo sviluppatore. Lo sviluppatore però non deve più stare dietro al, diciamo, l'esperto che magari cambia idee tre volte al giorno su come calcolare il premio e che magari si vuole provare diverse cose per vedere come funziona e magari si spiega in un linguaggio che è quello dell'esperto di assicurazione, ma non è quello del programmatore. Quindi si toglie un po' questo fastidio. C'è il vantaggio anche di far evolvere il sistema più velocemente, perché probabilmente non è frenato dal fatto che deve chiamare il consulente, lo sviluppatore, può aprire tutta un'altra fila di comunicazioni. Sì, mi viene in mente un altro caso che avevamo discusso. Era un'azienda che aveva bisogno di una sfilza di report e quindi il loro modo di operare era ogni volta che un manager aveva un'idea per un nuovo modo di riorganizzare i dati per avere un nuovo report, parlava con uno sviluppatore, si facevano fare una proposta per capire quanto costava, si davano il via e magari veniva poi fatta questa cosa e mandata dopo due settimane. Col DSL tagli questa cosa e dici ma guarda, oggi hai cambiato idea, vuoi farti un report? Fattelo tu, te lo fai in cinque minuti, se una volta che lo vedi ti rendi conto che è utile bene, se ti hai reso conto che non era poi così utile, lo butti via e pazienza, non hai fatto una proposta, pagato magari diecimila euro a quell'azienda, aspettato due settimane. E questo vuol dire anche che incoraggi la gente a provare nuove cose. C'è una cosa però che, un mio dubbio, che probabilmente tu ti sei risposto più volte, fare un linguaggio specifico a tutti questi vantaggi e ovviamente uno pensa sempre ai vantaggi e ai potenziali svantaggi. Ad esempio mi viene in mente che il lock-in con il fornitore potrebbe essere una cosa perché devo trovare, non so, dei sviluppatori che mi lavorino su quel linguaggio che è stato pensato specificatamente. Quindi tu fai formazione interna all'azienda oppure come succede quando devono inserire una persona che deve occuparsi di quella base di codice? Allora, ci sono due diversi tipi di formazione. Un tipo di formazione per chi usa il linguaggio. In quel caso, quel tipo di formazione deve essere semplice. Il linguaggio è pensato proprio per essere semplice, per cui l'utilizzatore... Il linguaggio naturale. Tu spesso parli di linguaggio naturale. Sì, che si ispira diciamo al linguaggio naturale non ti permette le ambiguità del linguaggio naturale ma dovrebbe avere una semplicità paragonabile. E imparare a usare il linguaggio deve essere una cosa che tu fai in uno o due giorni, massimo una settimana, per cui scrivi un manuale, ti fai degli esempi, poi inizi magari a formare delle persone nell'azienda e poi a quel punto non è un problema per loro formare a loro volta nuovi colleghi. E quindi quello non è un problema. Mentre hai ragione quando dici che se io azienda investo mi faccio fare il mio DSL poi trovare le competenze per mantenerlo, evolverlo nel tempo, quello è un problema. Sì, perché c'è poca gente che lo sa fare. Quindi quello frena. Però ti tiene aperta con la realizzazione che dicevi all'inizio dell'interprete ti tiene aperto verso il linguaggio che è comunemente usato probabilmente, no? Sì, nel senso... Di parte. Sì, cioè l'interprete magari lo puoi scrivere con un linguaggio che è comunemente usato. Però se tu vuoi cambiare la sintassi del linguaggio oppure magari vuoi cambiare l'editor, quelle sono cose che richiedono un po' più di competenze specifiche e quindi quello diventa più un problema. Ecco, quindi da persona che gli offre questi servizi ti dai, ma sì, non ti preoccupare, fidati di me per i prossimi vent'anni. però dal punto di vista del cliente quello è una difficoltà anche perché necessita di avere un buon rapporto con chi fornisce. Quello che ti volevo chiedere è cosa vendono di solito le aziende? Io, avendo un'azienda tech, cioè un'azienda tech, allora e anche l'altra di cui parleremo dopo, immagino, vedo sempre queste aziende che vendono, che diventano degli hub, che vendono delle suite, che vendono dei studio o dei integrated development environment, dei kit, dei qualification tool, tu quando hai aperto questa azienda avevi già in mente solo consulenza o training o avevi già in mente farò qualcosa in più dato che pensavi già ai strumenti? Quando ho proprio iniziato a mettermi proprio all'inizio non usavo sperare di potermi concentrare sul language engineering. Pensavo fosse una cosa troppo di nicchia, tra l'altro ero stato molto aiutato da un mio amico che mi aveva coinvolto in alcuni lavori che non c'entravano nulla con language engineering e quindi mi occupavo un po' di quello che capitava. Venivo da TripAdvisor e Groupon dove mi ero occupato più di applicazioni web e pensavo a cavolo mi dà un'arma competitiva e in realtà no perché alla fine la gente dello sviluppo delle applicazioni web pare che interessi solo la tariffa oraria quindi non funzionava tanto quel discorso. Non è una provocazione questa, non è. Però diciamo lì poi sono invece arrivate richieste sul language engineering che era il tema su cui avevo fatto il mio dottorato, su cui avevo scritto degli articoli e quindi la cosa è nata un po' da sé. Ho avuto sempre l'idea che avrei voluto andare verso dei prodotti poi come arrivarci è una cosa che per me è ancora una sfida adesso nel senso che ho degli infoprodotti cioè un libro o un videocorso o dei piccoli Dici pure in cosa consistono gli infoprodotti che hai realizzato. Il videocorso è un videocorso su Antler che è un parser generator che usiamo per molti dei nostri progetti qui ci troviamo bene che quindi abbiamo visto poteva essere utile fare del materiale mentre il libro è un libro che spiega un po' come sviluppare in maniera un po' rapida e pragmatica dei linguaggi di programmazione quello più che rivolto a chi fa DSL è forse rivolto a chi ha avuto sempre il pallino di crearsi il suo linguaggio di programmazione e diciamo guarda come puoi fare in maniera molto concreta farti il tuo piccolo compilatore che ti genera bytecode per la Java Virtual Machine il tuo semplice editor senza passare i prossimi dieci anni della tua vita a fare quella cosa lì però diciamo come prodotti più software recentemente abbiamo iniziato a vendere dei parser a pacchetto che sono dei componenti che utilizzi per fare soluzioni più ampie e per ora siamo fermi lì ragioniamo sempre su come muoverci verso i prodotti però è vero che attualmente le soluzioni che facciamo sono tipicamente custom e quindi sono rivolte a aziende specifiche invece volevo chiederti parser DSL ne abbiamo parlato e la generazione del codice a un certo punto sei andato a fare il CTO anche questa figura in un'altra azienda e vorrei capire di AI quindi di intelligenza artificiale volevo capire che relazione c'era spostarsi dal mondo del language engineering a quello dell'intelligenza artificiale e se mi racconti un po' di cosa si occupa questa azienda che è Clearbox mi pare sì allora diciamo che io a questa azienda ci sono anche arrivato in maniera un po' particolare perché ci sono quattro soci io sono uno dei quattro soci fondatori ci sono quattro soci fondatori adesso ci sono altri soci di capitale ma diciamo le due persone che hanno avuto l'idea originaria sono marito e moglie sono miei carissimi amici e quindi mi hanno chiesto di dare più una mano sul lato software engineering e quindi i processi di sviluppo io sono ben lungi dall'essere un esperto di AI quindi rischio solo di dire sciocchezze loro hanno le competenze di AI quello che poteva essere utile era qualcuno che portasse un po' più di rigore di best practice per lo sviluppo del software quindi è un po' quello il mio ruolo quindi portare un certo approccio al testing una certa metodologia di sviluppo quindi mi occupo di quello invece quelli bravi nell'azienda e cercano di risolvere un problema abbastanza sfidante che è quello di rendere l'intelligenza artificiale più utilizzabile dai esseri umani nel senso che attualmente l'intelligenza artificiale è questa specie di oracolo semidivino che ti dà delle risposte che tu non sei in grado di questionare c'era stato qualche mese fa la polemica per cui uno dei fondatori di base camp raccontava il fatto che lui aveva lo stesso reddito della moglie ma nel suo caso la nuova carta di credito di apple aveva assegnato un massimale dieci volte superiore a quello della moglie che lui avendo una certa popolarità aveva sollevato il problema la risposta di apple era stata è il sistema di intelligenza artificiale ci ha dato questa risposta cosa vuoi che ci facciamo non lo sappiamo perché è così e basta ecco questa è la situazione con cui spesso ci troviamo di fronte all'intelligenza artificiale che inizia ad avere un impatto sempre maggiore nelle nostre vite per cui adesso magari vai a chiedere un mutuo il sistema di intelligenza artificiale decide che il mutuo a te non lo dà e nessuno sa dirti perché quindi l'ostacolo più grande per te per l'adozione è questa mancanza di credibilità che Airbox cerca di dare degli strumenti a fronte di questo problema da degli strumenti che permettono di monitorare quello che fa l'intelligenza artificiale e costruire a posteriori delle spiegazioni sugli elementi che è andata a considerare per darti quella risposta quindi dirti nel tuo caso ho considerato principalmente questi parametri oppure farti dei controesempi dici sì è vero che ti ho risfiutato la proposta di mutuo ma nel tuo caso non l'ho fatto perché hai il cognome italianeggiante ma per via che ne so del del salario se tu avessi un salario più alto di non lo so 3k in quel caso ti avrei approvato la risposta e quindi dare della trasparenza che è utile sia all'azienda che ha questo sistema di intelligenza artificiale quindi può verificare che le risposte siano sensate sia all'utente e tra l'altro qualcosa che le nuove direttive europee obbligano le aziende a fare per cui se un sistema di intelligenza artificiale oggi prende una decisione che ha un'influenza sulla vita di una persona tu azienda che utilizzi quel sistema saresti obbligato a fornire un qualche tipo di spiegazione cosa che però con sistemi di intelligenza artificiale classici non è possibile fare quindi voi fate quel ML Ops cioè Machine Learning Operations che significa quindi mettere degli strumenti che possono monitorare come evolvono e perché si comportano in quel modo sistemi di Machine Learning sì e darti delle spiegazioni e dire in questo caso abbiamo fatto così perché trovare quel perché non è banale ma in questo settore invece le sfide più provanti quali sono? ma allora dal mio punto di vista c'è il fatto che come per tutti i settori diciamo in crescita c'è molto hype c'è molta confusione molte aziende hanno delle aspettative che sono sbagliate sull'intelligenza artificiale sostanzialmente ci sono anche un buon numero di cialtroni cioè quindi in questa confusione quando c'è un'azienda seria non è sempre banale emergere e magari alcune persone con cui entri contatto hanno avuto prima esperienze magari spiacevoli perché hanno avuto a fare con persone non molto competenti e quindi magari tendono poi ad avere un'idea negativa del settore quindi secondo me ci sono un po' di problemi di gioventù legati al settore che poi come dicevi tu giustamente prima non è che sia giovane il settore dell'intelligenza artificiale però diciamo questa sua adozione è giovane adozione senti andando verso la conclusione io tu rimani che comunichi molto ai diversi progetti open source hai una community su discorso mi pare una newsletter molto attiva un canale youtube e da poco non so da poco io dico da poco perché da poco che l'ho scoperto io adesso mi dirai tu c'è questo podcast in cui sei co-autore con un altro esperto del mondo del language engineering che si chiama beyondparsing.com è il sito se ci racconti un po' come tu tenti di comunicare questo mondo quello del language engineering adesso stiamo parlando principalmente non è semplice provare a raccontare il mondo del language engineering perché ci sono poche persone che hanno esperienze concrete io questa cosa l'ho vista stando dall'altra parte magari da giovane appassionato poi da da studente di dottorato vedevo questi esperti che facevano i progetti industriali veri ed ero molto curioso e quindi una volta che grazie anche a tante persone che mi hanno aiutato ho avuto la possibilità di iniziare a lavorare su progetti industriali veri è stato bello iniziare a condividere questo entusiasmo magari con con chi era nella stessa posizione in cui ero prima di raccontare un po' queste cose poi per me questa comunicazione è anche una scusa diciamo per provare nuove cose nuove tecniche nuovi framework che magari non utilizzo nei miei progetti coi clienti ma che voglio valutare quindi li provo li racconto e conto la mia opinione e sono anche modi di di tenere le antenne dritte e cogliere i segnali perché con la newsletter io racconto il mio punto di vista quello che ho capito ma chiedo anche del feedback quindi qualcuno mi segnala dei progetti mi magari mi critica magari mi corregge magari mi dà il suo punto di vista e quindi a volte mi ritrovo a fare anche la cassa di risonanza per idee che qualcuno mi ha dato che è una cosa di cui sono molto contento ed è un po' quella l'ottica in cui ho creato la community perché magari mi rendevo conto che scrivendo la newsletter incitando la gente a rispondermi qualcuno mi rispondeva mi segnalava dei progetti poi magari mi ricordavo di qualcun altro che mi avesse segnalato un progetto simile e provavo a metterli in contatto tra di loro però era tutto legato alla mia memoria alla mia capacità di trovare le informazioni quindi l'idea di creare una community è dire ci siamo un po' di appassionati su questi temi parliamoci direttamente ecco e quindi un po' aiutato in questo senso poi metteremo tutti i riferimenti nella descrizione della puntata prima di lasciare i tuoi riferimenti e congedarti ti volevo chiedere una cosa che siccome io occupo il ruolo da CTO nella mia azienda volevo capire tu come concepivi il ruolo del CTO senza ovviamente aprire una finestra ampissima ma tu come come vedi l'evoluzione il ruolo del CTO in azienda come lo vivi tu personalmente sì credo dipenda molto dal tipo di azienda dal livello di seniority delle persone per esempio in strumenta dove facciamo language engineering non ci sono junior quindi lì il mio ruolo è molto diverso nel senso più di ascoltare di svolgere il ruolo di facilitatore nel senso c'è gente brava facciamola lavorare e togliamo i disturbi da addosso poi magari anche cogliere diverse idee e incanalarle in un filone comune in modo che riutilizziamo le idee che nascono nei singoli progetti e piano piano costruiamo una base di conoscenza e anche delle librerie e degli strumenti che siano riutilizzabili in clearbox dove invece abbiamo anche persone un po' più giovani c'è un discorso un po' diverso perché c'è più la trasmissione di certe best practice che tutti il nostro mestiere abbiamo imparato sulla nostra pelle o dai colleghi e quindi magari si parla più cose concrete strategie di testing pattern e quindi c'è più un discorso più tecnico di dettaglio ecco nella prima hai più libertà di fare ricerca e sviluppo un laboratorio e nella seconda devi comunque essere una persona che fa anche quel lavoro di training di coaching di mentoring sì perfetto e allora dove ti possono trovare online Federico? il punto principale è il mio blog che è tomassetti.meso che Tomassetti è difficile da scrivere perché ci sono due S e due T quindi anche io ho difficoltà esatto io ho difficoltà anch'io a pronunciarlo ma trovo nei riferimenti quindi non ti preoccupare sì quindi da lì lì è la cosa principale poi strumenta.com mi sembra e clearbox.ai cioè inteligenza artificiale benissimo grazie ancora Federico per essere stato io qui su Strategie IT e alla prossima grazie mille Riccardo alla prossima grazie mille